La Gran Sasso Acqua ha presentato il piano strategico per il monitoraggio della qualità dell'acqua che parla digitale. Grazie ad un accordo con la SPE, azienda Aquilana leader in questo settore, in tempo reale si avranno i dati 24 ore su 24, ma anche gli alert, per prevenire qualsiasi tipo di problema. In questo modo, anche in caso di incidente, si potrà reagire tempestivamente con strategie immediate di mitigazione dei danni. Il progetto è finanziato dall'azienda, ma molte risorse potranno arrivare anche con il PNRR, che destina a fondi anche ai processi di digitalizzazione. Dunque, la Gran Sasso ha l'opportunità di porsi come utility all'interno della Smart City. Nel 2000, il prelievi, i campionamenti dell'acqua avvenivano ogni 40 minuti. Oggi abbiamo dei dati in tempo reale, con le analisi in continuità con il gas cromatografo. E non ultimo, questo progetto realizzato in dialogo competitivo con la SPE, una delle realtà più importanti sul territorio nazionale, per quanto riguarda il monitoraggio delle acque. Sostanzialmente, ogni allarme e preallarme veniamo avvertiti in tempo reale, 24 ore su 24, da SPE. Abbiamo stilato con loro un protocollo d'intesa, per cui a seconda dell'alert che arriva interveniamo per risolvere il problema. Questo ci consente spesso addirittura di prevenire anche eventuali problemi. Quindi, sostanzialmente, andiamo verso il concetto di resilienza aziendale, che è formalmente contenuto nei pacchetti di finanziamento del PNRR. Ci proponiamo sostanzialmente come utility del territorio, da questo punto di vista, per poter, in qualche maniera, essere recettori dei progetti che portano il mondo della digitalizzazione dentro le aziende. La Gran Sasso Acqua negli anni ha fatto diversi investimenti e, rispetto alla situazione iniziale, ha acquistato un gas cromatografo che consente al gestore di fornire analisi in continua su composti organici volatili. Successivamente ha installato tre sonde multiparametriche alla sorgente e quest'anno è stata montata una seconda stazione di monitoraggio, una per ogni candela, che in caso di rottura di una delle due può sostituire l'altra lavorando in modo alternato. La criticità del sistema idrico del Gran Sasso è legata alla convivenza di tre infrastrutture che qualche problema lo ha portato in questi anni. La captazione idrica delle sorgenti a scopo idropotabile, la galleria del traforo del Gran Sasso e i laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La SPE, in questo modo però, attraverso un collegamento centralizzato sicuro e sempre attivo, ha visibilità delle aree critiche in cui sono installate telecamere e sensori, gestisce tutte le segnalazioni, gli allarmi e i preallarmi. Già si stanno facendo inoltre dei test per il monitoraggio delle acque reflu ed è previsto successivamente il monitoraggio della sorgente acqua oria. Alla presentazione del progetto, oltre ai vertici aziendali, c'erano numerosi ospiti.